Giuseppe Pontigia, le sabbie immobili, è stato ripubblicato recentemente come supplemento del Sole 24 Ore, di cui tra l'altro è stato un collaboratore per anni, lo scrittore del raggio d'ombra della morte in banca, quel quale ha debuttato di Nati due volte, scomparso nel 2003, è scrittore infinito e generosissimo. Questa era una serie di, è stato pubblicato come racconti, anche racconti, racconti, breves saggi, sono inclassificabili, ci sono aforismi, ed è dedicato all'Italia, queste sarebbero le sabbie non mobili ma immobili, e già nel titolo c'è quella che è uno dei modi di costruzione del romanzo, con il paradosso, c'è anche un capitolo sugli antidetti, è quasi come se fosse un dispositivo di lettura, per esempio, quello di invertire la direzione di un detto, in questo caso per esempio, nuotare nella povertà, l'assente ha sempre ragione, pesce piccolo mangia pesce grosso, pescare nel limpido, l'occasione fa l'uomo onesto, o Cesare o qualcos'altro, non lasciare l'incerto per il certo, non c'è maggior cieco di quello che vuole vedere, le parole volano, gli scritti anche, l'occhio del padrone fa dimagrire il cavallo, chi si accontenta non gode, il diavolo non è così bello come lo si dipinge, amare gli estremi i piccoli rimedi, sapere dove picchiare la testa, chi non semina raccoglie, pochi sono i chiamati ma molti gli eletti, il dolce far tutto, il ferro va battuto quando è freddo, chi non lavora mangia, tra lui litiganti il terzo le prende, ad amico che fugge punti d'oro, con nulla si fa tutto, vivere e non lasciare vivere, pensarci prima, per pentirsi poi, oggi a me, domani, a me. sì, il ritratto dell'Italia è un ritratto pilare, un ritratto che procede dall'apertura e quindi non è sarcasmo, non è per chiudere, non è per chiudere l'Italia provinciale in una descrizione di negativo, ma proprio con l'uso dell'antidetto, con l'uso del paradosso, con l'uso della casella mancante, alcuni dei libri sono giocati proprio sulla non presenza di un elemento che è fondamentale, invece, nel libro stesso, come per esempio la grande sera, insomma, in cui il fugitivo non compare mai. è un'occasione, un pretesto per leggere per chi non l'ha mai letto Pontigia o per rileggere per chi ha avuto già la chance di leggere qualcosa. appena un cenno di come scrive Pontigia, proprio il primo capitolo, i miracoli della dieta italiana, mi pare che sia in questo libro che parlando di sé dica appunto di un gioco in cui ha cercato di sostituire la A con la O, cioè la A di grasso con grosso. Ma era ben altra cosa Giuseppe Pontigia che grasso o grosso. A leggere il rapporto del Ministero della Sanità si prova innanzitutto uno sconcerto ottico, l'italiano medio si allarga, ma contemporaneamente si allunga, è sovrappeso in oltre il 50% dei casi, però vive un anno di più che gli altri europei. Possono apparire segni di contraddizione, ma sono in realtà segni di coerenza. Ha lottato per secoli contro le malattie da fame, come la pellagra e il gozo, che hanno lasciato l'impronta nell'unica immagine in cui si riconosce, la maschera regionale, tra parentesi non è un caso che il suo antenato latino chiamasse la maschera persona. E siamo il paese che accompagna più spesso la parola miracolo, l'aggettivo economico. Questo la dice lunga sulle nostre idee circa la religione e l'economia. È naturale che sullo slancio della rincorsa l'italiano sia passato dalle malattie da indigenza alle malattie da abbondanza, quali l'obesità, il diabete e la cirrosi. In compenso la gotta, un tempo afflizione aristocratica e alto borghese, non è mai diventata popolare come la carne che la provocavano. Esempio insolito di classismo, perfino nelle malattie. e con questa modalità è più forte di infiniti saggi, per esempio di scienze umane che vengono scritte. al di là della contraddizione trova una coerenza, al di là del paradosso trova anche ragioni che non sono paradossali e sono quelle che ognuno non vorrebbe mai sapere ed è per questo che, per questa vicenda del sapere, alcuni umani si avvicinano alla psicanalisi. da un'intervista che gli feci nel 2002, Poti già parlava di questo suo desiderio che ha avuto ventenne quando faceva il militare, di diventare psichialista. ed è così che ha cominciato a leggere Freud. e forse possiamo dire che è con questa sua scrittura che c'è più analisi nei suoi testi che in tanti breviari psichialistici. voilà, per l'occasione Giuseppe Potigia, le sabbie immobili riproposto da Sole 24 ore e si trova, come quasi tutti gli altri suoi testi, nelle edizioni Mondadori. grazie. 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 grazie.